Una settimana ricca di appuntamenti con oltre 400 eventi in 260 location iconiche della città che vedranno protagonisti cittadini, istituzioni e aziende del settore tecnologico. Al via da oggi la seconda edizione della Rome Future Week a presentare le iniziative nella sede dell'Associazione Civita a Piazza Venezia, Sindaco di Roma Gualtieri e l'assessora alle attività produttive Monica Lucarelli. L'incontro inaugurale dal titolo Tecnologie per il futuro di Roma ha riunito figure della politica, del mondo accademico e delle imprese per esplorare le soluzioni tecnologiche che stanno contribuendo a proiettare la capitale verso un futuro più connesso e sostenibile. Durante la Rome Future Week l'innovazione sarà declinata attraverso cinque concetti chiave connessione, collaborazione, creazione, competenza e condivisione. Questi pilastri evidenziano la necessità di creare legami tra cittadini, imprese e istituzioni, promuovere l'innovazione attraverso start-up e PMI, investire nelle competenze digitali e facilitare lo scambio di risorse e conoscenze tra tutti gli attori coinvolti. Tra i progetti più significativi c'è il lancio dei primi 25 centri di facilitazione digitale su tutto il territorio di Roma. Questi centri, distribuiti in scuole, centri anziani e spazi pubblici, rappresentano una risposta concreta al Digital Divide. Grazie a un investimento di oltre un milione del PNRR, questi centri offriranno microcorsi e assistenza personalizzata per garantire a tutti l'opportunità di partecipare alla trasformazione digitale.